ciao a tutti oggi scuola di maglia ma con l'uncinetto vi volevo infatti far vedere come poter chiudere una lavorazione fatta ai ferri con l'uncinetto perché questo perché come nel mio caso dipende da come gettiamo il filo sui ferri oppure come gettiamo il filo sull'uncinetto e se lavorate come lavoro io ma nella stragrande maggioranza dovrebbe essere così ecco che la chiusura con l'uncinetto mi risulta più pulita e più carina iniziamo con la chiusura chiaramente quella base quella con la cavallata semplice poi in generale con l'uncinetto potete fare praticamente quasi tutte le chiusure che fate con i ferri ma vi faccio vedere comunque la differenza che c'è tra il pezzettino che chiudiamo con i ferri e il pezzettino che chiudiamo con l'uncinetto quindi io con l'uncinetto quando chiudo con la cavallata semplice cosa faccio entro lavoro gettando il filo sul ferri in questo modo sulla prima la seconda e poi a cavallo la prima maglia lavorata sulla seconda e vado avanti così entro lavoro e a cavallo entro lavoro a cavallo questa chiusura appunto con la cavallata semplice comunque ve la lascio qui sopra e nel box informazioni in maniera che se non siete capaci di eseguirla la vedete per benino e con calma lavoro un pezzettino proprio per farvi vedere la differenza intanto vi volevo dire questo lavoro l'ho fatto con i ferri numero 4 quindi io andrò a chiudere con l'uncinetto numero 4 ma non è detto perché lì dipende dalla vostra mano magari voi lavorate con i ferri numero 4 il vostro progetto e poi invece con l'uncinetto avete una mano un po più larga un po più stretta e quindi potete cambiare benissimo e lavorare e chiudere scusate magari con un uncinetto del 3 del 3 e mezzo piuttosto che del 4 e mezzo ecco lì fate delle prove per capire qual è l'uncinetto che diciamo così vi vi serve in base alla vostra mano ok qui sono andata a chiudere non so se si vede bene ecco ma la chiusura è questa qui se invece io vado a chiudere con l'uncinetto quindi via il ferro inserisco l'uncinetto cosa faccio quando lavoro all'uncinetto entro nella maglia la sposto dal ferro all'uncinetto e poi vedete io getto come se fosse un gettato inverso vedete e vado a chiudere in un solo passaggio quindi entro chiudo entro chiudo e vedete è molto più veloce beh lì dipende anche se sapete lavorare con l'uncinetto o no ma anche se siete principianti veramente con l'uncinetto dei neofiti vi assicuro come vedete ci sono dei passaggi in meno e quindi è molto più semplice in più adesso vi faccio vedere la differenza di finale della chiusura di lavorazione pur essendo diciamo così la stessa chiusura il fatto di gettarlo inverso e di non tirare le maglie quando accavalliamo perché il problema è anche quello che quando andiamo a cavallare la maglia viene tirata invece con l'uncinetto entrando vedete non tiro nulla perché praticamente non a cavallo ok abbiamo fatto lavoro anche l'ultima perfetto poi qui chiaramente si taglia come fate di solito e nascondete le codine guardate questo è il pezzo che ho lavorato con l'uncinetto e questo è il pezzo che è stato lavorato a maglia adesso ve lo avvicino questo è il pezzo lavorato a maglia questo è il pezzo lavorato all'uncinetto cioè si vede la differenza qui vabbè lasciate stare che qui ho tirato un pochino il filo ma ecco questo o questo chiaramente voi potete anche dire beh io non sono capace con l'uncinetto quindi vado a chiudere con il gettato inverso perfetto potete anche fare così bene per oggi è tutto se il video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao